Salve, il suo esempio è rivolto a chi prende casa senza regolare contratto, ma la mia domanda è un'altra. Nel caso l'inquilino riceva la comunicazione che a scadenza contratto non verrà più rinnovato, ma l'inquilino, non trovando altra abitazione, continua a rimanere pagando l'affitto regolarmente? Ecco, questa è una domanda molto interessante che ho ricevuto sul mio canale YouTube e immagino che la risposta farà discutere molto, soprattutto in questa fase di piena emergenza abitazione. Allora, nel caso in cui il contratto di locazione sia arrivato alla sua naturale scadenza, ovvero è arrivato all'ottavo anno, al dodicesimo eccetera, quindi non al quarto nel caso di un contratto 4 più 4 o al quinto per i contratti 3 più 2, e l'inquilino non voglia liberare l'appartamento perché non trova un'altra sistemazione, anche se continua a pagare regolarmente l'affitto, il locatore può intimargli lo sfratto per finita locazione secondo l'articolo 657 del codice di procedura civile. Quindi anche se il conduttore continua a pagare il canone, il fatto che il contratto sia scaduto legittima il proprietario a pretendere la restituzione dell'immobile locato. Bene, questo è tutto, se ti va fammi sapere cosa ne pensi.